Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 6 febbraio 2017 siamo in diretta alle 7.30 questo è l'appuntamento che apre tutte le mattine in diretta l'informazione con la lettura dei giornali i giornali sono il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino però prima come di consueto diamo sguardo al calendario per vedere i Santi di oggi il Santo è San Paolo, Michi e compagni, il sole sorto alle 7.19 e tramonterà alle 17.25 oggi è una brutta giornata dal punto di vista meteorologico, vedete c'è tanta pioggia addirittura la neve che inizialmente sarà come limite delle nevicate intorno ai 1500 metri ma in calo verso i 1000 alla fine di questa giornata le temperature minime sono in lieve aumento ma le massime sono in calo dunque che cosa dobbiamo attenderci per oggi? queste precipitazioni diffuse che sono già partite, sono già iniziate hanno anticipato rispetto al bollettino previsto dalla protezione civile che le prevedeva a inizio a tarda mattinata in realtà si stanno già intensificando e si intensificheranno poi ancora di più nel pomeriggio a fine giornata insomma le accumulate areali su settori collinari ed interni saranno moderate e localmente anche elevate c'è un allertamento proprio che prevede tanta pioggia e dunque anche smottamenti purtroppo allora venti orientali di vento teso al mattino in rotazione dal nord-est fino a vento forte nel pomeriggio naturalmente il mare è mosso per domani martedì 7 la situazione migliora vedete c'è solo un po' di neve sui Sibillini che continua a scendere il limite delle nevicate è intorno ai 700 metri in mercoledì avremo tempo buono con possibile nuovo marcato peggioramento delle condizioni del tempo da giovedì la tubercolosi contagiosa questo è il titolo e la fotografia sul resto del carino di oggi è stato confermato il caso del profugo nigeriano di 34 anni che è stato ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive non corre pericolo di vita la profilassi effettuata a Cagli e a Borgo Santa Maria dove era ospite di centri della labirinto il territorio poi invece è privo delle pattuglie il cadavere rimane appeso due ore lo vedremo tra poco dall'allarme sicurezza al disagio per un suicida che i parenti volevano ricomporre ma come sapete non si può toccare se non ci sono le forze dell'ordine quindi è rimasto purtroppo lì appeso per un paio d'ore entriamo nelle pagine interne del resto del carino allora partiamo da questa notizia che arriva da auditore si è impiccato a 39 anni non era però depresso né solo aveva anche superato appena superato un contenaccio e fiducia a una grave malattia vincendo la sfida un 39enne operaio sposato due figli adolescenti residente a Casenina però ha deciso di farla finita l'altro ieri pomeriggio andando in un capannone abbandonato di proprietà di un parente però come dicevamo lo hanno trovato impiccato poi è successo il caos perché il 118 i sanitari sono stati costretti a mantenere l'ordine in quanto né l'arma dei carabinieri né il commisariato di polizia avevano pattuglie disponibili in quel momento e dunque sono scattate le proteste il dubbio sulla competenza tra Peso Rubino ha rallentato quindi l'intervento tutto questo è successo intorno alle 18.30 e questa è la notizia sul resto del carino con tutti i dettagli a Fano invece c'è sgomento in città incredulità, dolore per la morte di Andrea Gramegna questo 35enne pugliese originario di Gravina titolare di un bar a Sant'Orso nel suo locale venerdì sera all'improvviso Gramegna è stramazzato al suolo in preda a delle convulsioni fatali 40 minuti di inutile massaggio cardiaco dei medici del 118 prima di dichiararne il decesso sotto gli occhi del figlio e la polizia scientifica nel bar in cui è avvenuto questa tragedia sono stati fatti accurati controlli praticamente su tutto e la foto vedete di Andrea Gramegna e il locale nel quartiere di Sant'Orso a Fano e poi di fianco qui la notizia che oggi inizia la rassegna Cianfrusaglia al Teatro Politeama con gli attori che saliranno sul palco del Politeama alle 21 il Guitto per questa 13 edizione di Cianfrusaglia questa rassegna di teatro dialettale che si svolge ogni anno quest'anno debutano loro per primi il Guitto e con uno spettacolo liberamente tratto dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni adattato da Stefano Guidi e Alice Guidi che ne ha curato anche la regia e si intitola Ste Matrimoni e non sa da fa non sa da fa e quindi uno spettacolo che coinvolgerà un totale di 26 attori andiamo adesso invece sull'altra pagina del resto del Carlino da Pesaro un parco in cassa integrazione ci sono dei problemi al Miralfiore per il personale della cooperativa nell'ambito del passaggio di gestione da marche multiservizi ad Aspes ladri scatenati in Via Bonini incursione al Bar Fabio rubati soldi e grattevinci dunque ladri ancora in azione poi andiamo adesso sul Corriere Adriatico oggi c'è lo Sport naturalmente sono ridotte le pagine della cronaca i costruttori post-sisma siamo pronti chiamatici edilizia ripresina nelle compravendite ma il mercato delle nuove case è fermo questa è la notizia principale da Pesaro dopo una caduta libera delle aziende edili del settore costruzioni nella provincia di Pesaro Urbino dal 2009 al 2015 pensate il numero è crollato in sei anni del 34% nell'ultimo anno c'è stata una lieve inversione di tendenza del 4% circa che fa comunque ben sperare il presidente provinciale di Ance Confindustria Costanzo Perlini a centropagina il basket con la consult invest che risorge e Cantù deve arrendersi finale in crescendo questa volta non c'è il blackout mentre sul fronte calcistico anche la vispesero può festeggiare il Fano invece ci prova ma deve arrendersi alla San Benedettese in casa insomma per il Fano davvero ormai le cose si stanno davvero mettendo male soldi in fumo all'aeroporto e ora rispunta Santorelli l'ex amministratore di Fanon Fortuna nella Eagles le contraddizioni della politica sulla pista in cemento i soldi investiti dalla Fanon Fortuna nei progetti per la pista d'asfalto dell'aeroporto sono andati in fumo e l'aumento di capitale è stato speso senza la realizzazione di gran parte delle opere previste è in corso la verifica di scelte e costi mentre nella Eagles Aviation Academy spunta appunto Gianluca Santorelli ex amministratore della Fanon Fortuna la pagina di Fano del Corriere Adriatico la vediamo subito Casa Lucia ospita minori così l'utopia diventa realtà inaugurata la struttura di Cucurano di Fano il vescovo Trasarti dice Fano non è razzista è il luogo che molti possono chiamare casa non solo un tetto sopra la testa ma anche affetti ed amicizie vengono accolti i richiedenti asilo e tutti i ragazzi con disagio assegnati dai vari tribunali dai vari tribunali italiani ogni adolescente segue al Volta, all'istituto Volta una scuola un percorso di formazione personale con attività integrative per l'inserimento sociale sempre dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico stroncato nel bagno del bar domani c'è l'autopsia cordoglio a Sant'Orso per il malore fatale dell'esercente Gramegna e dunque il Corriere ci informa oggi che dovrebbe svolgersi domani l'autopsia sul corpo di Andrea Gramegna appunto il titolare del bar di questo bar di Sant'Orso trovato morto venerdì sera proprio all'interno del suo locale l'esame disposto dal pubblico ministero Maletizia Fucci avrà come scopo quello di stabilire l'esatta causa del decesso all'aeroporto di Fano soldi pubblici in fumo e nella Eagles ora spunta Santorelli l'ex amministratore di Fano Fortuna è il rappresentante legale della società Lettone subentrata a quella maltese le contraddizioni della politica sul programma di potenziamento dello Scalo Fanese e tutti i dettagli sul pagina di Fano del Corriere Adriatico di oggi andiamo sulla Valle del Cesano il nuovo comune ora favorisce la partecipazione di bimbi e giovani le novità contenute nello statuto di terre roveresche e ci sono anche iniziative social questo è lo stemma lo vedete quasi tutta pagina eccolo qua lo stemma del nuovo comune di terre roveresche poi Marco Gasparini l'ex consigliere di minoranza di Orciano avvia un sondaggio su politici e problemi cittadini costituito il gruppo pubblico con 350 iscritti poi sotto invece Donald De Miro riflette riflettete dice quindi apritevi alla vita l'esortazione dell'autore del libro sul senso dell'essere quattro tracce di lettura siamo a Mondolfo Senigallia squilla in plein air ecco la mappa le prostitute agganciano a Senigallia i clienti su Facebook e li ricevono a bordo dei caravan parcheggiati in strada bastano una chat e lo scambio dei numeri di cellulare poi su WhatsApp vengono fissati il giorno e l'ora insomma prostituzione creativa le forze dell'ordine presidiano il territorio per un monitoraggio si spostano le case viaggianti e a luci rosse fino a quando insomma non si vabbè lasciamo stare cartina 8 da piazza Amalfi a Marzocca a volte arrivano fin sotto ai palazzi chiaramente c'è chi protesta poi per questo spettacolo ambulante l'allarme a Ostravetere invece grida di aiuto in centro soccorsa un anziano un'anziana di 86 anni che era caduta in casa ed è stata soccorsa ieri mattina dai sanitari del 118 a Pesaro invece addio al mago delle moto è scomparso Primo Zanzani fece volare la moto B con oltre 1200 vittorie domani camera ardente al museo Benelli per salutare lo storico tecnico era nato nel 1923 i funerali si terranno nella chiesa di Madonna di Loreto qui vedete una foto recente sotto invece Primo Zanzani in un'immagine d'epoca che appunto lo ritrae davanti a una delle sue tante motociclette Magnini festeggia invece 35 anni tra Roma e Pesaro Federica gli augura buon compleanno tramite Instagram ok noi ci possiamo fermare qua per quanto riguarda la rassegna stampa è tutto vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti